Come il BES ci può aiutare ad andare in direzione dell'equità? Il BES è un concetto interessante perché ci costringe a misurare delle dimensioni che normalmente sono meno considerate, cioè le dimensioni qualitative della vita quotidiana e di una società. La sostenibilità infatti significa relazioni sociali, significa equità, significa uguaglianza e disuguaglianza. Riassumere un termine è importante, oggi sarebbe importante, è altrettanto importante, riassumerle anche in poche misure. Provoco una sola misura, visto che ormai ci si serve soltanto di una misura, cioè il PIL per dire come va l'economia, diamo una sola misura al BES per vedere quanto siamo equi e quanto sia sostenibile la nostra società.